litigano armati di coltello due denunciati raid ladresco nella notte al comune di caltanissetta gli equilibri in consiglio comunale dopo gli arrivi di garozio rando esco dalla giunta a testa alta parla l'ex assessore camizzi santelia luigi basile direttore di neurochirurgia asilinido verso nuove possibilità di accesso san domenico dopo scuola gratuito in parrocchia stadio tomaselli il punto della situazione ben trovati litigano armati di coltello sono due ad essere stati denunciati a caltanissetta necessario l'intervento della polizia il servizio i poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della repubblica due uomini un 53enne e un 29enne a vario titolo per i reati di porto di armi ad oggetti atti ad offendere resistenza e minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento sabato sera l'equipaggio di una volante a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della questura è intervenuto in via reditalia dove erano stati segnalati due uomini armati di coltello i poliziotti hanno identificato i due contendenti un 29enne che poco prima in stato di agitazione armato di coltello aveva danneggiato il portone di una comunità di accoglienza e due autovetture parcheggiate nella predetta via e un 53enne che armato di mannaia e di coltello era sceso in strada dalla propria abitazione per affrontare il 29enne i predetti bloccati dai poliziotti coadiuvati da un equipaggio dell'arma dei carabinieri sono stati sottoposti a perquisizione personale condotti in questura nella fase della identificazione delle perquisizioni entrambi fermati hanno posto resistenza nei confronti dei poliziotti cercando di colpirli con calci e pugni la mannaia e i due coltelli sono stati sequestrati raid dei ladri a palazzo del carmine presi di mira i distributori automatici di snack e bevande calta in sette furti di monete e merce dai distributori questa volta ad essere stati forzati sono i distributori di snack all'interno del comune nisseno già nei giorni scorsi due eventi simili uno ha riguardato i distributori h24 in via consultore benintendi l'altro in via san giovanni bosco entrambi forzati per entrare dall'interno del comune si sarebbero introdotti dall'accesso di salita matteotti e poi hanno raggiunto il secondo piano li avrebbero forzato i distributori e trafugato il denaro sul posto dopo la segnalazione di un dipendente sono arrivati gli uomini della polizia di stato e della scientifica che hanno eseguito i rilievi sui fatti stanno lavorando gli inquirenti gli equilibri in consiglio comunale dopo gli arrivi di garozzo erando nella giunta di palazzo del carmine e l'uscita di camizzi il sindaco di calta nissetta roberto gambino ha rinnovato la sua scuola di assessori dopo l'addio di luciana camizzi con l'ingresso di ettore garozzo e di varrando alla luce di quanto successo abbiamo chiesto come è cambiata la posizione dei singoli componenti del civico consesso nei confronti dell'amministrazione comunale su 24 consiglieri comunali solamente analisa petito e valeria visconti hanno risposto alla domanda giovanni magri nina schirmenti angela caruso michele d'oro federica scalia anno polidoro e marco matta contattati ce ne ha risposto ma non hanno rilasciato dichiarazioni marina mancuso come capogruppo consigliare dei 5 stelle ha dichiarato che il sindaco fin dal principio ha deciso in autonomia le scelte degli assessori e quindi anche in questo caso è che a giorni ci sarà un incontro col sindaco come movimento per affrontare l'argomento lisa faragi ha risposto che la sua posizione non cambia nei confronti del primo cittadino oscar aiello tilda falcone fabrizio di dio ci hanno risposto di non poter rilasciare dichiarazioni essendo fuori sede infine nessuna risposta da parte di giovanna mulè gianluca bruzzaniti calogero adornetto salvatore mazza salvatore petrantoni michele giarratana michele tumminelli oriana mannella adele castellana e gualtiero guarino abbiamo condattato il sindaco roberto gambino per una sua risposta e ci farà sapere nella giornata di mercoledì la mia posizione nei confronti del sindaco non cambia assolutamente anzi ha sempre ancor di più dimostrato che il mantra del movimento 5 stelle trasparenza e partecipazione oramai non gli appartengono più la mia posizione nei confronti dell'amministrazione a causa di questo rimpasto non cambia è sempre la stessa giunta e sindaco non hanno un disegno politico non c'è una visione politica la città parla le classifiche parlano siamo in pieno stato di abbandono e degrado esco della giunta a testa alta parla l'ex assessore comunale luciana camizzi dopo alcuni giorni di silenzio riflessione luciana camizzi ha voluto dire la sua sull'avvicendamento al palazzo del carmine che la vista è stromessa dal suo assessorato abbiamo sentito l'oramai ex assessore che ha dichiarato di uscire a testa alta da una giunta comunale del tutto scoordinata abbiamo contattato il sindaco roberto gambino per una sua risposta e ci farà sapere nella giornata di mercoledì cari concittadini come avrete appreso dalla stampa il 10 novembre il sindaco ha revocato le mie deleghe e nella stessa giornata ha nominato altri due assessori aumentando così la compagina assessoriale da 8 a 9 il tanto decantato nuovo modo di fare politica avrebbe dovuto consentire ad un assessore tecnico di espletare di completare le attività che comunque erano in itinere e invece di interrompere bruscamente senza particolari motivi la mia attività ho vissuto la mia esperienza da amministratore con grande onore con grande senso di responsabilità soprattutto verso i miei concittadini il mio operare è stato sempre improntato a principi etica o morali che nulla hanno a che vedere con biechi ed opportunistici giochi politici sono stata scelta anche in qualità di rappresentante dell'unione giovani dottori commercialisti e la mia il mio assessorato tecnico il mio essere un tecnico un dottore commercialista ed un revisore legale ha permesso di affrontare le deleghe anche problematiche più rognose sempre in sintonia con il sindaco la giunta municipale i consiglieri e tutti evidentemente la la mia abnegazione il mio senso di bel del dovere non sono stati apprezzati dal sindaco esco credo di uscire a testa alta da una giunta nei cui negli ultimi tempi era totalmente scoordinata spesso gli apprezzamenti venivano fatti solo per il singolo e non per l'operato del dell'intera giunta voglio ringraziare i cittadini per le innumerevoli attestazioni di stima che ho ricevuto sia da forze politiche che da singoli cittadini voglio dire a tutti che il mio impegno professionale ma anche il mio impegno sociale continuerà nei confronti appunto della della città e della collettività tutta e resto dalle motivazioni che si leggono nel decreto di revoca viene indicato viene fatto riferimento alla mia professionalità alla mia competenza il mio senso civico però per ravvivare eh lo spirito delle dell'aggiunta è stato necessario sostituire la mia persona eh ringrazio tutti i nisseni e auguro in bocca al lupo i due nuovi assessori. Sant'Elia Luigi Basile direttore di neurochirurgia nomina ufficializzata dal direttore generale dell'ASPA Alessandro Caltagirone. Sarà in servizio già da mercoledì 16 novembre il nuovo direttore di neurochirurgia dell'ospedale di Santeria di Caltanissetta. Si tratta del dottor Luigi Basile dalla chirurgia cranico-encefalica alla chirurgia arachide cervicale midollare fino alla chirurgia arachide dorso-lombo-sacrale della spasticità e del dolore cronico. La carriera del dottor Basile è arricchita da competenze trasversali in più branche neurologiche. 58 anni laureato in medicina e chirurgia all'università degli studi di Catania. Nell'88 dopo la specializzazione in neurochirurgia sempre nell'Ateneo etneo è stato un neurochirurgo avarese dove è rimasto fino al 2010. Poi tornato in Sicilia ha intrapreso il nuovo percorso all'interno della neurochirurgia dell'AU policlinico Paolo Giacone di Palermo. Docente a contratto della scuola di specializzazione in neurochirurgia del master di secondo livello in terapia del dolore dell'università degli studi di Palermo, l'Ateneo in cui insegna anche come docente. Il direttore generale Alessandro Caltagirone dice sono certo che il dottor Basile saprà mettere a frutto la sua competenza e esperienza per sviluppare e crescere le potenzialità della nostra neurochirurgia. La nomina peraltro arriva in un momento favorevole che coincide con il ripristino del monello organizzativo alla fase pre-covid. Da oggi il reparto di neurochirurgia avrà la sua piena identità e non sarà più accorpato alla chirurgia vascolare valorizzando il nuovo ruolo di centro hub di riferimento per i traumi delle province di Caltanissettenna e Agrigento. Una riorganizzazione, dice ancora il direttore generale, logistica ancora più favorevole anche tenuto conto dell'imminente inserimento della neurochirurgia all'interno della rete dello stroke. Caltacqua fa sapere che il fornitore di sovrambito siciliaque ha reso noto di avere risolto la criticità riscontrata nei giorni scorsi alla condotta di adduzione Madonie Est. Così è stata rimodulata la programmazione di distribuzione delle utenze nei comuni, ovvero Resuttano ha ripreso a partire da oggi così come Santa Catrina-Villarmosa e poi Marianopoli oggi accumulo mentre mercoledì 16 zone A e B, giovedì 17 accumulo, venerdì 18 zone A e B. Parliamo adesso degli asili nido. Verso nuove possibilità di accesso è stata infatti disposta l'apertura delle iscrizioni per i lattanti. Tre potranno accedere a Santa Petronilla e sette al Pasolini. Nuove possibilità di accesso negli asili nido comunali. È stata disposta infatti l'apertura delle iscrizioni per l'anno educativo in corso per i lattanti, cioè i bambini da tre a dodici mesi. Tre i posti disponibili nell'asilo nido di Santa Petronilla, sette nel caso del Pasolini, pubblicato infatti sul sito del comune Il Bando. Una buona notizia annunciata anche attraverso i social dall'assessore a ramo Cettina Andaloro. Sarà possibile inviare le domande entro le ore 12 del 7 dicembre 2022 tramite posta certificata all'indirizzo protocollo chiocciolapec.comune.caltanissetta.it oppure mail all'indirizzo ufficio.protocollo chiocciolacomune.caltanissetta.it. In entrambi i casi indicando nell'oggetto la dicitura nuova domanda di iscrizione asilo nido anno 2022-2023 o ancora potrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune o tramite raccomandata o ricevuta di ritorno indirizzata al signor sindaco del comune di Caltanissetta, direzione settima politiche sociali sociosanitarie scuola Corso Umberto 134. Anche in questo caso bisognerà inserire la stessa dicitura nel plico. La modulistica è scaricabile dal sito del comune o ancora disponibile presso lo sportello della direzione in via De Gasperi. Verranno poi assegnati dei punteggi e sarà stilata una graduatoria. Le emissioni saranno effettuate sulla base dei posti resisi disponibili nelle sezioni lattanti degli asili, si legge nel bando, che fa anche riferimento alla questione rette mensili. Importo calcolato in base alla fascia di reddito. Servizio gratuito per chi possiede un'iseda 0 a 3.215,20 euro. Dopo l'appuntamento del 22 ottobre i medici della provincia nissena si incontreranno di nuovo in via Ricome di sede dell'ordine di Caltanissetta, sabato 19 novembre. La formazione professionale prevede infatti un incontro per la seconda parte del corso di aggiornamento di ematologia dal titolo L'ematologia incontra il territorio, condivisione dei percorsi diagnostici terapeutici. Anche in questo caso saranno accolti fino a un massimo di 100 partecipanti e gli stessi poi riceveranno al termine un attestato con l'indicazione dei crediti formativi che saranno attribuiti dalla Commissione. L'evento avrà inizio dalle 9 del mattino. Durante la mattinata saranno presentati dei casi clinici per approfondire l'aspetto dell'iter diagnostico terapeutico delle diverse forme di leucemie per poi lasciare spazio alla discussione interattiva e focalizzare l'attenzione sul supporto domiciliare al paziente ematologico in epoca Covid. Ora cambiamo argomento e parliamo di... c'era una volta la Pierrera ovvero la miniera di Zolfo a Caltanissetta un incontro a San Giovanni il servizio. Per la giornata regionale delle vittime delle miniere venerdì pomeriggio nella chiesa di San Giovanni si è tenuto un incontro di studio per ricordare le Zolfare e il rapporto con la chiesa dell'epoca. Giornata istituita dal presidente uscente della regione siciliana Nello Musumeci per ricordare la strage di Gessolungo avvenuta nel 1881 dove a causa di una scindilla di Grisù si verificò il tragico avvenimento. All'evento organizzato dall'ufficio diocesano di Caltanissetta sono intervenuti per un saluto padre Alessandro Rovello direttore dell'ufficio diocesano, padre Michele Quattrocchi rettore della chiesa di San Giovanni e Filippo Ciulla presidente dell'associazione culturale Michele Abbate. Per approfondire l'argomento moderati della dirigente scolastica Laura Zurli sono intervenuti la professoressa Fiorella Falci che ha parlato di chiesa nissena e zolfatai e Luigi Bondà che ha parlato di come la zolfara di oggi potrebbe essere una risorsa di sviluppo. Abbiamo pensato come ufficio cultura della diocesi di dedicare un momento di riflessione alla storia degli interventi della chiesa nissena nel mondo della zolfara perché al di là degli stereotipi o di quello che i media hanno tramandato c'è stato un lavoro molto interessante in diverse epoche della storia della zolfara tra la fine dell'ottogento e la prima metà ai primi 70 anni del novecento che ha visto protagonisti, personaggi della chiesa nissena con delle opere estremamente importanti. Ci troviamo qui a San Giovanni dove è nata il centro sociale Gesù Divino Lavoratore che padre Salvatore Buccoleri subito dopo la seconda guerra mondiale, riuscì a costituire coinvolgendo i lavoratori delle zolfare e tutti gli operai delle varie aziende che lavoravano nella città di Caltanissetta. Prima di lui tra la fine dell'ottogento e l'inizio del novecento un altro religioso, il venerabile padre Angelico Lipani di cui è incorso la causa di beatificazione, addirittura ha costituito una congregazione di religiose, le suore francescane del Signore della città, proprio con la finalità di assistere le orfane, le mogli e le figlie degli zolfatari che morivano nelle stragi in miniera, dare loro un'istruzione, un'accoglienza, una formazione professionale, accompagnarle al matrimonio, cioè un'idea pastorale non tanto solo caritativa ma che puntava alla promozione umana, alla valorizzazione di queste personalità. Anche a Palermo è stato ricordato l'agente di Polizia di Stato Calogero Zucchetto che il 14 novembre 1982 fu assassinato mentre usciva da un bar in via Notarbartolo. Nel luogo dell'omicidio, all'angolo tra via Notarbartolo e via Libertà, le più alte cariche cittadine della Polizia di Stato, civili e militari, hanno ricordato il giovane poliziotto. Alla cerimonia ha partecipato anche il vicario del questore di Caltanissetta, primo dirigente Gaspare Calafiore e in rappresentanza del questore Emanuele Ricifari, esponenti dell'amministrazione comunale di Sutera e scolaresche. Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia e Santina Zucchetto, sorella di Calogero, hanno poi deposto una corona sulla lapide dedicata al poliziotto ucciso dalla mafia. Cambiamo argomento, ci spostiamo nuovamente a Caltanissetta e parliamo della parrocchia San Domenico dove i volontari sono impegnati ad effettuare il doposcuola gratuito per bambini in parrocchia. Accolgono i bambini ogni giorno per circa due rette e li aiutano a svolgere i compiti assegnati a scuola dalla matematica all'italiano, dalla storia alla geografia. Arrivano dai 15 ai 25 bambini e bambine con lo zaino e spalla, libri, quaderni, colori e si siedono attorno ad un tavolo per studiare in compagnia insieme ad altri coetanei e soprattutto con il supporto di persone competenti e che mettono a disposizione degli altri il proprio tempo, impegno e professionalità, spinte da un senso di solidarietà. Dal 7 novembre infatti nei locali della parrocchia di San Domenico viene garantito il servizio gratuito di doposcuola grazie all'opera di quattro volontarie della Croce Rossa e anche di altre persone, alcuni insegnanti per mestiere, che hanno deciso di aderire volontariamente. Un'attività presente in parrocchia da più di 10 anni. Noi ci occupiamo dei bambini, dalla prima elementare alla terza media e qualche ragazzo di bienio superiore. Quello che gli diamo è l'aiuto nel fare i compiti. Molti bambini non sanno leggere, non sanno scrivere, abbiamo bambini con problemi proprio di comunicazione, quindi cerchiamo di dare un aiuto a 360 gradi per quello che si può fare con le difficoltà che hanno questi bimbi, questi ragazzi. L'importanza di questo servizio è proprio perché avviene in questo quartiere, avviene con dei bambini che appartengono a famiglie che molto spesso noi assistiamo a 360 gradi, quindi con l'aiuto della parrocchia, con l'aiuto dei nostri volontari di Croce Rossa e soprattutto con dei cittadini che si mettono a disposizione della Croce Rossa per poter svolgere questo tipo di servizio. Croce Rossa nei suoi percorsi legalità assieme alla parrocchia di San Domenico, a padre Alessandro Rovello che ringrazio per la disponibilità, cerca di essere presente in questi territori e in questi quartieri, proprio per avere più fini solidaristici nei confronti, non solo dei bambini ma anche della famiglia. È soprattutto un progetto e un percorso per quella crescita integrale che tutti noi ci auguriamo, una crescita che è culturale, una crescita che è nella capacità dell'ascolto reciproco, una crescita nell'amicizia, una crescita verso la via del bene. Questo progetto lo portiamo avanti in collaborazione con la Croce Rossa da tantissimi anni e siamo molto felici, molto orgogliosi che ci sia una bella risposta da parte dei bambini, dei ragazzi, ma anche delle famiglie che apprezzano particolarmente questo servizio. L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro investe in prevenzione e mette a disposizione quasi 14 milioni di euro per il finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici destinati ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza a livello nazionale, territoriale o di sito produttivo e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Con 899 mila 120 euro destinati alla formazione la Sicilia risulta la sesta tra le regioni ad ottenere un finanziamento così alto. Le attività formative saranno garantite da organismi formativi in possesso dei requisiti specifici che sono previsti negli avvisi regionali. I soggetti erogati dalla formazione potranno ottenere il contributo da un minimo di 20 mila a un massimo di 140 mila euro. Le domande di finanziamento potranno essere presentate singolarmente o in aggregazione. Cambiamo argomento, parliamo adesso di meditazione. Meditazione per conoscere noi stessi, questo è il titolo dell'iniziativa di Aldo Cammarata a San Cataldo, il servizio. La meditazione è uno dei più importanti strumenti che lo yoga ci offre per conoscere noi stessi. Si chiama Sahaya Yoga, il percorso che Aldo Cammarata organizza tutti lunedì sera nella sala Borsellino a San Cataldo. In questo percorso le persone scoprono di cosa si tratta, quali sono i suoi immensi benefici e come praticarla. Siamo tutti diversi, la nostra mente funziona diversamente e quindi ognuno di noi risuona meglio con un differente tipo di meditazione. Accompagnati da canzoni hindu e lunghi silenzi, si entra in uno stato di benessere e meditazione per rinforzare il cuore e l'anima. Sahaja Yoga è il nome della meditazione che proponiamo stasera. È una meditazione che va oltre la mente attivando l'energia che è dentro di noi, l'energia madre che permea ogni cosa, che è dentro le nostre cellule, che ha creato tutto, che si chiama Kundalini e che è attivata la quale si raggiunge uno stato di consapevolezza senza pensieri, un nuovo stato, il famoso quarto stato della spiritualità attraverso cui raggiungere armonia, gioia, pace dentro di noi. Siamo molto lieti di ospitare questa associazione che insieme a noi da tempo ha pensato di poter dedicare un momento di meditazione o comunque di rilassamento anche a servizio di tutta la nostra comunità. Voglio fare davvero un applauso alla loro disponibilità attraverso la quale appunto si dà alla comunità di San Cataldo la possibilità di partecipare gratuitamente a questi incontri, una serie di incontri che abbiamo fissato anche per i prossimi lunedì alla quale noi siamo davvero contenti di poter partecipare. Io oggi sono qui per onorare questo incontro e fare questa esperienza che sicuramente ci porteremo a casa e che ci rinforzerà. Sono gli agenti della polizia postale che in due distinti momenti hanno incontrato gli alunni dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice e della Scuola Media Rosso di San Secondo di Caltanissetta con il progetto Cyber Bullismo The End. Finalizzato a sensibilizzare e prevenire i rischi e i pericoli della rete, progetto organizzato dalla rete delle scuole nissene che comprende l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice, Scuola Capofila, l'Istituto Comprensivo Don Milani, il Circolo Didattico Leonardo Sciascia, l'Istituto Rapisardi da Vinci di Caltanissetta e prevede anche interventi formativi rivolti agli alunni, studenti e docenti e genitori. Parliamo adesso del Sicily Mineral Show che a Caltanissetta ha visto una massiccia partecipazione di studiosi e appassionati. Sabato 12 e domenica 13 novembre nell'hotel San Michele Sala Borsellino di Caltanissetta si è svolto il 44esimo Sicily Mineral Show con mostra mineralogica, mostra malacologica e corso di fotografia naturalistica. Durante le giornate della manifestazione è stato possibile ammirare le mostre tematiche, le tormaline nel monto e i minerali di Racalmuto, Montedoro e Milena con l'esposizione di numerosi esemplari provenienti da località malecologica di Pietro. Questo è un evento esclusivo per il sud d'Italia e siamo orgogliosi di dire che quest'anno abbiamo scommesso, ci siamo impegnati molto per realizzare una mostra particolarmente interessante, viva e ricca di attrattive. Ci sono già le scolaresche che hanno preso l'avvento sulle sale e quindi c'è un gran movimento. Partecipazione perché le proposte e le offerte sono davvero tante, abbiamo una mostra anche malacologica, abbiamo fossili, abbiamo minerali da tutte le parti del mondo e soprattutto una grande raccolta di tormaline che si sa che sono i minerali più preziosi in commercio e che si rinvengono sul pianeta Terra. Anche quest'anno la Polizia di Stato all'interno dell'iniziativa della campagna permanente Questo non è amore parteciperà attivamente con diverse iniziative per la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il 20 novembre prossimo infatti a Pietraligure in provincia di Savona avrà luogo la prima edizione di We Run for Women Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi. Un evento sportivo nazionale aperto a tutti i cittadini realizzato su due percorsi, uno di 10 chilometri competitivo e non competitivo, uno di 3 chilometri non competitivo. Entrambe i percorsi condivideranno la località di partenza in arrivo e poi sarà realizzato un villaggio dedicato al tema della violenza di genere. Iscrizioni aperte fino al 17 novembre. Adesso parliamo dello stadio Tomaselli. Il punto della situazione sembra sempre più vicina alla data di riapertura. La questione legata allo stadio Marco Tomaselli riguardante la segnatura del terreno di gioco ha fatto registrare un'importante novità. Sport e Salute ha inviato la comunicazione di condivisione della perizia di assestamento dei lavori di realizzazione in erba artificiale del campo sportivo Marco Tomaselli. Conseguentemente entro 10 giorni verranno completati dall'impresa esecutrice i relativi lavori. Al completamento delle attività tecniche l'impianto verrà riconsegnato al comune che provvederà a metterlo a disposizione delle associazioni sportive. Lo stadio Tomaselli recentemente la Sport e Salute che è l'interrogatore del finanziamento ha dato l'ok sulla perizia di variante che consisteva nella modulazione del campo per poterlo utilizzare in modo polisportivo sia per il calcio che per il rugby. Una volta sbloccata la procedura nell'arco di pochi giorni, ritengo 10-15 giorni, sarà possibile completare e definire tutto, ultimare sostanzialmente i lavori che ormai erano agli sgoccioli e poter avere il campo pienamente operativo sia per le attività del calcio che per l'attività del rugby. Per quanto riguarda le categorie, lo stadio così come è realizzato sarà idoneo, sarà richiesta chiaramente l'omologazione, sarà idoneo per poter praticare il calcio fino alla serie D, invece per quanto riguarda il rugby potrà essere utilizzato grazie al fatto che il regolamento prevede la possibilità di realizzare le linee anche in modo delebile in modo da poter avere la doppia validazione, la doppia omologazione. Per le categorie superiori in realtà il campo non ha un'omologazione diretta per questo tipo di manifestazioni perché oltre al problema legato all'aspetto prettamente sportivo, quindi il manto, gli spogliatoi, le panchine e altro, sarà necessario qualora dovesse ravvisarsi la necessità di dover adeguare alcuni spazi legati anche alle tribune, all'accesso del personale e anche degli spettatori che in questo momento non consentirebbero un'omologazione per categorie superiori. Chiaro che qualora si potesse ravvisare la possibilità di avere delle importanti manifestazioni, cioè del comune non si tirare indietro a poter fare e effettuare quelle necessarie operazioni per poterlo rendere fruibile anche per questo tipo di attività. Sport, calcio ed è la Nissa che annuncia di avere tesserato la punta Farnamarna classe 1999 nato in Guinea di nazionalità portoghese proveniente da Zurich City. Nella nota si legge fisico possente ma anche una eccellente tecnica, queste sono le caratteristiche più importanti del giocatore. Si legge anche che la società biancoscudata dice che si tratta del primo tesseramento in Italia dell'atleta e che la scelta è arrivata dopo un periodo di prova nel corso del quale l'attaccante ha dimostrato grandi qualità. Marna potrà scendere in campo già domenica a Misinmeri contro la Don Carlo per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Buon proseguimento. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Tribi Meteo. Nella giornata di mercoledì una perturbazione atlantica attraverserà il nostro paese coinvolgendo soprattutto il centro sud mentre al nord ovest la situazione andrà temporaneamente migliorando. Osserviamo la grafica della nuvolosità che ci mostra gran parte del nostro paese alle prese con nuvole e piogge infatti soprattutto al nord est e sulle regioni centro-meridionali proprio per l'avanzata di questa perturbazione atlantica mentre al nord ovest la situazione andrà temporaneamente migliorando. Osservando anche lo zoom delle precipitazioni notiamo come i fenomeni saranno concentrati soprattutto sul versante tierrenico, residui e pioggia al nord est mentre il contesto migliorerà al nord ovest anche se un'altra perturbazione si avvicinerà poi entro la servizi di pubblica utilità farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, del corso, corso Vittorio Emanuele servizio notturno, romano, corso Vittorio Emanuele Grazie a tutti per la passione! Grazie a tutti per la passione!